ciao ragazzi benvenuti in questo nuovo video buona domenica 29 dicembre freddo fa freddo siamo tutti con i cappelli con le sciarpe con i giubbini prima di iniziare a parlare di questa domenica di come sta andando faccio un saluto ad alessia annunziata l'infermiera e francesca la gatta bionda mi raccomando sono brave quindi prima di iniziare buona domenica a tutti come state trascorrendo questo weekend l'ultimo weekend di questo 2019 spero che questo weekend sia bellissimo per tutti voi veramente io sono contento che il weekend ti fa sempre una soddisfazione infinita sono contento adesso oggi pomeriggi mangiamo tranquilli siamo sereni siamo contenti che sta per finire quest'anno brutto pieno di tragedie che il napoli non ha giocato bene questo campionato è andato male ha vinto col sassuolo 21 e finalmente è arrivato il gran momento del 2020 spero che questo 2020 sia un anno bello sia un anno pieno di soddisfazione per tutta l'italia per tutto il mondo io sono contento perché il 2020 si sta si sta avvicinando mancano quasi 48 ore meno due al 2020 e a quella che sarà una bellissima festa iscrivetevi al canale e attivate la campanella buona domenica a tutti 29 dicembre fredda soleggiata e nuvolosa